Questo corrate il problema, diciamo, per esempio hai fatto vedere Corsini, io ci ho anche parlato con Corsini e lo reputo una persona in gamba, al di là di quella, diciamo, la manifestazione di militanza che è uno cibolone, si poteva risparmiare, ma diciamo non mi sconvolge più di tanto, no? Che uno rivendichi la sua... Io gli ho detto, ma avete tutto il potere, fate una televisione di destra, dicendo, fatemi vedere, fateci vedere che cosa sapete mettere in campo, no? No, fate dei programmi, inventate dei format, tirate fuori dei personaggi, ma questo riguarda anche tutti gli anni di Berlusconi, noi abbiamo atteso in vano per vent'anni di vedere qualcosa, no? Che sostituisse l'egemonia televisiva della sinistra. Sì, hai capito, fatelo vedere, gli ho anche detto, guarda io vorrei, io sono un uomo di sinistra, vorrei lavorare, se ci fosse un progetto, no? Che parte da un'idea di destra, conservazione... Il problema è il vuoto delle idee, è il vuoto dei format delle idee. Mi pare che quello, diciamo, al quale hanno, tra virgolette, obbedito, insomma, no? Ai quali sono stati soggiocati è subito, diciamo, allinearsi alle direttive che venivano dall'alto. E questa è un'altra occasione perduta. Allora... E poi, scusa un secondo, una cosa soltanto... C'è una differenza anche, lo dobbiamo dire, rispetto al passato, no? Io ho detto quella della fine dell'eretica, importantissima, secondo me. Ma una volta nella RAI c'erano persone, colleghi, che avevano una capacità, una struttura morale, professionale tale, per cui era difficile incidere, molto più difficile, no? Sulle loro opinioni, sulle loro forze.